Stato d'agitazione per il personale della tua, l'azienda che copre collegamenti pubblici urbani ad agrigento, la società è creditrice di 2.205.000 euro, cifra aggiornata la settimana passata nei confronti di Palazzo dei Giganti, che però in questo specifico caso funge da mero intermediario, trasferendo all'azienda i fondi provenienti dalla regione. Ed è qui il nocciolo della questione. Da Palermo arrivano tra ritardi e drastici tagli sempre meno soldi, con un ribasso che si aggira al 35%. Di questi 2.205.000 euro, spiega Vincenzo Asaro, dirigente della tua, una parte verrà certamente erogata, che sarebbe quella interessata dai ritardi, l'altra, quella di circa 1.500.000 euro, è quella che invece sarebbe stata ghigliottinata. Un colpo di scure che si è calato tra il 2012 ed il 2014. Non si può continuare a pensare di tagliare risorse ad un servizio pubblico, ha concluso Asaro, perché se viene a mancare il sostegno sarà caos. E intanto il contratto di trasporto urbano tra comune di Agrigento e la ditta, che si occupa del trasporto pubblico urbano in città, è stato prorogato con decreto sino al 31 dicembre 2017, ma è la palissiana la necessità di un deciso cambio di rotta. Attualmente alla tua sono in servizio circa 40 persone, che così facendo potrebbero ridursi a 30. Il passo successivo allo stato da citazione del resto non potrà che essere quello dello sciopero. Il mancato incasso delle somme, anche di intere trimestralità, ha portato inevitabilmente a tensioni finanziarie, tant'è che è stato chiamato in causa anche il prefetto di Agrigento, Nicola Diomede. Un'ondata di disagi, che ovviamente si ripercuoteranno anche sul sociale, che così facendo colpirà gli utenti. Aumenterebbero esponenzialmente i tempi di attesa per poter prendere l'autobus. Se adesso, ad esempio, il mezzo passa ogni mezz'ora, nel futuro si potrebbe attendere un'ora o addirittura un'ora e mezza, quasi al pari di un autobus extraurbano. A Lillo Firetto, sindaco di Agrigento, non resta altra strada che quella della sollecitazione alla regione, affinché vi siano i trasferimenti già previsti ed in ritardo.